Eccoci qua. Allora, benvenute Carcasse Putrescenti, bentornati su Carcassa, bentornati sui nostri schermi, bentornati a noi nelle vostre orecchie. Allora, questa sera, questo pomeriggio, questa mattina, in base a quello che sarà il momento in cui ci fruirete, parleremo di un film decisamente conosciuto, che è passato al cinema, non vi parleremo delle nostre cose solite nascoste, le nostre perle nascoste che abbiamo visto solamente noi, parleremo invece di un film, anzi direi quasi, direi addirittura due film, che sono passati al cinema, hanno avuto una produzione comunque di un certo livello, una distribuzione abbastanza presente, di cui per o meno hanno parlato anche un po' tutti. Noi arriviamo in ritardo, ma volutamente, anche perché penso che ne parleremo più tardi di questi film. A noi piace parlare delle cose che sono schifose, vunte, che dopo che abbiamo parlato voi dovete andare a lavargli le mani. Cioè quella cosa lì. Invece no, oggi parleremo di A Quiet Place. Per cui, in silenzio. Con me, come al solito, c'è Nick. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E sotto di noi c'è Bidin Grammar, Margherita. Buonasera. Allora, intanto... No, fermati, voglio partire io. No, io dico solamente una cosa ragazzi. Io oggi voglio cercare di dire il meno possibile, e poi a un certo punto dovete concedermi uno sfogo. Ok? Per cui, per il momento andate voi ragazzi. Allora, no, parto io, parto io. Allora, la prima cosa, io ho visto The Office, e io a Jim di The Office, che è il protagonista del primo film, gli voglio bene, ok? Gli voglio, cioè lo amo come attore, è una persona di un garbo, cioè ho visto delle interviste, tra l'altro la moglie nel film è sua moglie nella vita vera, e cioè se vedete le interviste di coppie insieme vi viene il diabete, ma è quel diabete genuino, perché... cioè sono delle persone che si vede, che si amano. Quindi io lo dico, parto così, e dico, ok, Jim, io ti voglio voler bene, cioè ti voglio bene, ti stimo, ti amo e tutto. Però, mannaggia e in culo a te e a chi ti ha dato una mano a scrivere il film. Non puoi fare un film dove è impossibile che la gente sopravviva e poi, cazzo, ti dimentichi le regole del tuo film, perché dici, eh no, ho sbagliato, sono partito in modalità difficile e adesso allora mi dimentico delle cose che ho detto. Mannaggia la puttana. Soprattutto se mi fai un film, uno, primo tempo, secondo me, pazzesco, con una costruzione del mondo che è, cazzo, super fantastica, e poi a metà film va tutto a cazzarella. Trama, così, per chi non deve essere visto. Arrivano dei mostroni cattivissimi sulla terra, che si mangiano tutti, si inculano tutti, perché questi sono grossi, cattivi, incazzati, e sentono qualsiasi rumore, un po' come questi figli di puttana che sono con la musica a tutto volume fuori da casa mia perché ha festeggiato il Milan. Date a cagare, spero vi venga la candida e moriate in preda troci spasmi. Mia moglie mi guarda malissimo perché dico queste cose. Vabbè, comunque, arrivano questi mostroni che sentono questi cazzo di rumori e ogni volta che uno anche solo pensa di scorreggiare arriva un mostro che ti stacca la testa. E allora le persone che sopravvivono cercano di trovare un pochettino dei scamutaggi. Tra cui c'è una scena, secondo me, stupenda che è all'inizio del primo film dove loro camminano sulla sabbia a piedi nudi per non fare rumore e vedi che nei sentieri che di solito bazzicano hanno fatto questa autostrada di sabbia. e io dico ok, che bello. Perché ti viene l'ansia perché tutta questa famiglia c'è tutta questa intimità c'è tutta questa cosa vaffanculo anche Simone. E poi a un certo punto il film svacca completamente. Io non sono d'accordo con me. Ho iniziato a ascoltare gli Slayer perché ho visto un film sul metal che mi ha attizzato sono andato da Jack e gli ho detto Jack, spiegami la via del metallo. Jack mi ha dato una serie di compiti e poi io adesso sto ascoltando un sacco di metal. Comunque aperto e chiuso la parentesi. Ma perché tu non avevi mai ascoltato gli Slayer? Non avevo mai sentito mi ha detto che è bello. Gli ha detto che è leggerissimamente e in ritardo di 40 anni all'inizio. Cosa ti avevo detto Nick? Che cazzo ti rompeva i coglioni? Che eri in ritardo. Comunque comunque guarda ti faccio incazzare ancora di più. A me il metal ha intrippato perché ho visto una commedia teen sul metal su Netflix di quelle super sdolcinate che piacciono a me. Tipo? Come si chiama? Mi sembra si chiama il Lord of Metal che è la storia di questi sfigati ma in realtà è carino però sono quei film da Nick con la lacrimuccia facile da micchia ma voglio sentire anche il metal. Vabbè comunque ritornando alle robe di sto cazzo di film di metal. Sì in effetti devo dirti che in questo tema film d'amore e lacrimuccia facile con gli Slayer è proprio la morte loro. Sì sì. Sì proprio. E la colonna sonora di questi film. No no ti giuro e lì siccome mettono tutte queste enfasi sul metal ho iniziato a scoprire ascoltare il metal e ho detto minchia ma c'è tutta una parte di cose fighissime che non ho mai sentito e allora mi sono scimmiato. Comunque ritornando ai Quiet Place perché se no Margherita mi manda a fanculo e c'ha ragione. Il mio sfogo iniziale su cui io baso tutto il film è questo non sono né uno né due due film di merda ma non mi sono piaciuti e questo voglio che sia molto chiaro una cosa che non piace a me non è per cosa che è brutta per tutti però la cosa che a me ha urtato tantissimo è questa decostruzione del mondo che tu fai perché poi ti accoggi che hai fatto una puttanata e ci sono sia nei primi che nel secondo film ci sono tutta una serie di piccole grandi cose che veramente non si capiscono cioè in particolare personaggi che per una serie di motivi ma poi ci arrivo lì urlano come degli animali perché stanno male e i mostri se ne sbattono una ciolla cioè non ne arriva uno ma il rumore è prolungato poi nello stesso posto più o meno alla stessa ora stessa location uno dice all'altro mi scappò una scoreggia e arrivano 57 mostri che uccidono tutti e tu dici ma che cazzo cioè erano in sciopero prima facevano una settimana corta come cazzo è possibile sta roba e questo è il motivo che mi ha fatto ma disincantato tutti e due i film che secondo me in realtà potevano essere una figata per come sono stati girati per la costruzione del mondo potevano essere secondo me dei film veramente a spaccare i culi invece almeno per me meh sì e no ecco sì voi cosa ne pensate devo fare uno sfogo garbato volevo sentire un attimo Margherita che ha collegato la prima poi Simone che è arrivato in ritardo per cui dice le cose per ultimo punizione yeah shame on you Margherita allora io non ho avuto tempo di riguardare il primo però mi ricordo di averlo visto al cinema e che mi era piaciuto mi era piaciuto soprattutto per l'utilizzo che fa del sonoro io credo che a livello di film si è fatto proprio bene con il montaggio il sonoro anche quando c'è il punto di vista della ragazzina sorda cioè quelle scene sono sempre bellissime in cui tu non senti niente c'è un'angoscia tremenda in quelle scene e il secondo mi è piaciuto un po' di meno ma forse perché cambia proprio registro il primo è più tranquillo tra virgolette introspettivo il secondo è proprio film ad azione un po' come la saga di Alien cambia fa quel salto e quindi per il gusto personale ho preferito il primo anche se non l'ho rivisto quindi adesso non so se avrò la stessa opinione oppure no il film è molto conservatore cioè nel senso è proprio chiaro che dal primo film tu mi vuoi portare avanti il mantenimento della famiglia questo mantenimento non c'è più alla fine nel secondo film provi a ricostruirmelo proprio in maniera chiarissima anche con il lavoro di montaggio che loro fanno c'era proprio una scena magari poi più avanti andiamo negli spoiler non so tra l'altro possiamo fare spoiler del primo oppure no sì sono film vecchi se parliamo del secondo film possiamo spoilerare il primo almeno secondo me allora se c'è bisogno di parlarne se ne parla però secondo me è un film che si può andare senza troppi dettagli a meno che non si voglia essere cattivi come sarò io più avanti ho detto qualcosa ups quindi vabbè e allora di sicuro è un film fatto bene gli attori ci sono sono bravi sono tutti bravi tra l'altro la ragazza la figlia è davvero sorda l'attrice sì tutto bene e quello ci sta personalmente mi è piaciuto come è girato anche tante furbizze che hanno usato anche se secondo me il grande la grande zoppia di questo film è a livello proprio di soggetto e tu cosa ne pensi Simone allora io vi dico che li ho visti entrambi oggi pomeriggio e il non li avevo visti non sono di solito film che vado a cercare però li ho visti entrambi oggi pomeriggio e il secondo ho finito di vederlo in sala giochi mentre mi figlio giochicchiava con i videogiochi e allora io vi dico che sicuramente sono dei film fatti bene con criterio abbastanza curati io onestamente ho difficoltà a considerarli due film cioè un primo e un sequel sembra più un film diviso in due parti più che due film separati ha una perfetta linea di continuità anche dal punto di vista proprio stilistico sono sono molto continui infatti se non sbaglio proprio nei titoli di testa il secondo è intitolato A Quiet Place parte 2 esatto e in effetti più che un vero e proprio sequel sembra dalla sensazione di essere un film diviso in due parti e allora devo dire che ci sono cose che mi sono piaciute e cose che mi sono piaciute meno e le cose che mi sono piaciute meno sono soprattutto nel secondo che però stranamente c'è anche le cose che mi sono piaciute forse il primo è un po' più come diceva Margherita è un po' più introspettivo è qua alla sua forza però forse non lo sa tantissimo allora vi dico le cose che mi sono piaciute tanto sono innanzitutto l'utilizzo appunto del sonoro o meglio l'assenza del sonoro perché nel primo proprio credo che ci siano solo due o tre battute in tutto il film e poi le parti appunto dove abbiamo la soggettiva quindi abbiamo in prima persona la figlia sorda c'è l'assenza totale di audio quindi questa è una scelta sicuramente coraggiosa e anche originale è anche intrigante l'assedio e le modalità di sopravvivenza da parte di questi esseri e mi è piaciuto anche il fatto che non si lesina in cioè il film si apre con la morte di un bambino di 4 anni quindi muoiono i buoni quindi non c'è da questo punto di vista un aspetto buonistico che salvaguardia determinate categorie quindi questo mi è piaciuto ci sono cose che mi sono piaciute meno soprattutto nel secondo quindi in quello di cui dobbiamo parlare quindi non so se dirle adesso oppure ma procedi allora il secondo come diceva Margherita credo se non sbaglio il secondo prende vira un po' forse Nick uno di voi due il secondo vira un po' e in effetti nel secondo c'è più azione rispetto al primo ma è anche inevitabile perché loro si trovano al di fuori per motivi logistici al di fuori della propria dimora quindi in campo aperto devono cercare un posto sicuro quindi è inevitabile che ci sia più azione in movimento il problema del secondo però qua parlo da un punto di vista esclusivamente soggettivo mentre nel primo ci sono un po' di cose che da un punto di vista più generico non mi sono piaciute nel secondo è proprio una questione di gusto personale perché a un certo punto la seconda parte di Aquired Place si trasforma in The Walking Dead è proprio The Walking Dead quindi che a me personalmente non piace quindi ho fatto un po' fatica e tra l'altro si trasforma in The Walking Dead fino a un certo punto e sul finale diventa Survival of the Dead di Romero l'ultimo film di Romero proprio pari pari quindi insomma qua un po' mi ho perso diciamo un po' di empatia rispetto al film anche se devo dire che il finale del secondo è veramente spettacolare a me è piaciuto un casino quindi cioè ripeto ha delle cose buone e delle cose brutte devo dire che la cosa che ha detto Nick prima riguardo questa storia dei mostri che a volte appaiono a volte non appaiono io non l'ho notata cioè quando ci sono dei rumori appaiono magari ci mettono un po' di più perché sono più lontani scusatemi ma appaiono sempre c'è una cazzo di tizia scusa spoiler gigante c'è una cazzo di tizia che partorisce puttana troia prima mi fai vedere uno che per sbaglio pesta ma non sentiamo rumori mica abbiamo ci sono rumori no sì perché ti dico una cosa anche anche buttare fuori un bambino fa rumore cioè anche solamente sì quello sì però la vi dico la cazzata più grossa di questo film è che uno di notte rossa se uno di notte rossa è morto quindi abbiamo finito cioè è finito è finito a quiet place cioè sono ora ora adesso io sono d'accordo con con Simone dal punto di vista che appunto è un film che cioè già le premesse sono sbagliate sono starnutisce e muore cioè mi state dicendo che per un anno non avete starnutito non avete fatto un colpo di tosse az raga cioè io sono pienamente d'accordo con quello che dice Nick cioè questo è un film che parte io non mi ricordo bene ma la stanza in cui lei partorisce non era insonorizzata no lei partorisce in bagno partorisce in bagno avevano fatto tutta la stanza per farla partorire però lei poi partorisce in bagno partorisce in bagno nella doccia anche secondo tra l'altro c'è l'urlo del bambino all'inizio sì che urla disperato per il dolore e poi arriva un mostro arriva perché uno arriva uno arriva il più vicino ha capito cioè siete contigliosi dai queste non sono dai sospensione dai scusate è pieno una la posso far passare due la posso far passare la posso far passare cioè ragazzi scusatemi io ve lo dico io ho trovato l'unica maniera per cui riuscivo a guardare questo film era ogni volta che vedevo una cazzata la segnavo e così mi è passato il tempo perché davvero ho fatto ho fatto un file gigantesco con tutte le minchiate e ho detto wow e io io consiglio ragazzi io questo lo consiglio per i nostri spettatori ragazzi se volete davvero divertirvi una sera volete fare una sera da spaccarvi veramente volete proprio tuonarvi di alcol e divertirvi tantissimo fate questo nuovo gioco drinking game bellissimo vi mettete sul divano in venti con una damigiana di alcolici davanti e tutti i bicchierini da shot e ogni volta che uno vede una cazzata in questo film la dice l'altra voce e beve ragazzi a metà film siete tutti cuonati tutti tutti veramente cioè se avete il fegato grande così e siete si rischia al come però scusatemi noi stiamo parlando perché allora ti dico Jack se uno soffrisse di aerofagia è spacciato cioè muori subito però aspetta io dico una cosa ma infatti la domanda che faccio io è solo questa la sensazione che ho avuto io è che a un certo punto si bari un po' e quindi quando per esigenze di trama ti serve che i mostri sentano anche veramente il rumore dell'intestino pellico di uno che si trattiene una pisciata cazzo sono arrivano arrivano i 70 tipo la scena del moro siccome sarebbero morti allora fa allora cosa facciamo qua allora gli fai fare un urlo poi arrivano mostri a cazzo ok sto cazzo di bambino urla come un coglione per tre quarti d'ora che poi inizia io ho capito che tu stai male ma sai che muo cioè figa e sto cazzo di bambino che cazzo ne so e mi arriva uno e poi mi arriva un altro sei mesi dopo che poi anche lì piccole parentesi sto tizio si chiude in un posto pieno di ruggine apre e chiude una cazzo di botola dove però ci sborra sopra con l'ubrifol per non farle fare rumori perché se no anche solo quella roba lì per come ha improntato tutto il film Ale mi ha guardato male perché ha fatto una parolaccia esageri con l'ubrifol meglio amore ok alzate i sopracciglia nel senso approvazione cioè in teoria quello lì era morto perché sei in mezzo all'acqua e al ferro quindi qualsiasi roba tu faccia devi sentire un casino che sembra che sembra veramente una gamba di legno di un cazzo di pirata a me è quello che mi fa un cazzo cioè non mi piacere il culo non dico tu dico tu che hai fatto il film cioè non mettere delle regole così cazzo rigide nella costruzione del mondo se poi le usi come cazzo vuoi ora ora io dico una piccola cosa allora il punto è che questo film è stato ispirato dalla vita in campagna dei due scrittori e volevo fare un film del genere ok il punto è che tu non puoi partire dal concetto e poi ricamarci sopra una roba che non ci sta il punto è che quando io ho visto sto film la prima cosa che ho pensato ho detto cazzo però in natura ci sono dei rumori anche forti queste creature come reagiscono ai rumori forti che ci sono in natura allora intanto già il fatto che esistano ancora gli animali selvatici è follia cioè ci sono gli avvoltoi sopra che li girano intorno ma siamo scemi cioè gli avvoltoi cioè io ho qua le gazze che fanno un casino della madonna tutti i giorni fuori da casa mia le tortore che fanno casino cioè ci fossero queste creature le prime cose a essere spacciate sarebbero tutte le creature selvatiche perché non è che possono scegliere di non far rumore per cui i primi a morire tutti dovrebbero poi il discorso è dei rumori forti tipo la prima cosa che ho pensato è giuro su dio che l'ho pensata la prima cosa che ho pensato è stata e se c'è una cascata nel film ti fanno vedere che c'è una cascata e poi ti dicono allora noi abbiamo una donna che sta parterendo che farà molto rumore costruiamo al posto di al posto di costruire un rifugio vicino alla cascata dove possiamo condurre una vita normale dove possiamo parlare urlare fare quello che vogliamo no no facciamo un rifugio sottoterra che è tra l'altro neanche così tanto ben isolato cioè ragazzi questi qua fanno vedere che nella cascata possono urlare ma porca di quella puttana ma vai a vivere lì vai a vivere lì cosa ti costa ma lo fa vedere a suo figlio una volta minchia io almeno una volta al giorno ci andavo sotto la cascata anche solamente per star lì in compagnia tra l'altro piccola cosa hai voluto fare il figo volevi mettere il personaggio sordo perché ci poteva stare cioè vi rendete conto che il fatto che sopravviva una persona sorda non ha un minimo di senso cioè già di premessa cioè una persona sorda è la prima vittima perché una persona sorda non si può rendere conto dei rumori che sono intorno a lei cioè la prima persona muore cioè mi spiace ma doveva essere lei però lei ha l'apparecchio che cazzo lei ha l'apparecchio acustico ma non serve che non funziona cioè fa anche la prova fa anche la prova e non serve no no può è capito cioè questo come dici te Nick questo film ti dà delle premesse per cui la vita assura ti fa ti crea un apocalisse e poi ti dice e dai però non è così tanto dura e nel 2 mi incazzo ancora di più perché ragazzi cioè cioè tutta la Sardegna si salva tutta la Sicilia si salva l'Irlanda la Gran Bretagna si sono salvati tutti magari neanche da noi in Europa arriva quella roba lì perché magari come fanno ad arrivare cioè ma ma ci rendiamo conto che cazzo di apocalisse di merda che è è un apocalisse del cazzo il punto è che e io ve lo dico il punto di questo film è che vuole troppo poi spiegartela quest'apocalisse ti vuole spiegare come funzionano questi mostri salvo poi non essere in grado di mantenere queste premesse se loro avessero fatto dei mostri di cui non si capiva un cazzo e si sapeva solamente che vagamente era così a me andava bene io lo accettavo invece no te la vogliono spiegare quasi scientificamente e poi non stanno alle stesse regole che hanno scritto ragazzi questi qua sono dei mostri ciechi che negli ambienti chiusi si muovono come delle creature incredibili saltano saltano sulle barche nel 2 saltano sulle barche dal molo come cazzo fate come cazzo fate vabbè dai io io no ho capito capito su spessioni dell'incredibilità però una volta due ti faccio devo l'encarra davvero ho l'encarra no no facciamo parlare facciamo parlare un attimo anche Marghe che secondo me era più moderata sì io sono più per ignorare queste cose e andare a vedere un po' il film di che cosa poi parla effettivamente non mi sono proprio impuntata su queste cose forse non ci ho nemmeno pensato tanto me le state facendo pensare voi ora però effettivamente sì ci sono alcune cose che non tornano ed è fastidioso il fatto che il film voglia spiegarti le cose e poi va un po' contro quello che ti spiega quindi forse era meglio lasciare un po' tutto in maniera nebuloso sì però ad esempio piccolissima parentesi a me non è piaciuto l'inizio del 2 soprattutto cioè il fatto che ti debbano far vedere una roba che invece è lasciata tra l'altro anche lì aprendo delle contraddizioni che non ci sta cioè non ha senso quello che fanno vedere in relazione a quello che hanno fatto a quello che era successo nel primo film però il fatto che ti debbano spiegare ti debbano far vedere da dove arrivano a me non me ne fregava un cazzo era così bello il fatto di non saperlo boh questa roba hollywoodiana di dover sempre spiegare a me rode sì sono americani e poi probabilmente volevano fare qualche altra scena con Kras quindi per forza dovevano mettere il flashback poi sì a loro piace sempre far vedere come parte l'apocalisse quindi fare quella contrapposizione tra il mondo perfetto americano con tanto di partitina di baseball com'era e com'è adesso però sapete che a me nonostante io abbia notato il fatto che sia un film che è conservatore nel conservare proprio il nucleo familiare sostituendo un po' la figura del padre mi è piaciuto il fatto che l'eroina poi vera e propria nel film sia la ragazzina anche quando fa squadra con il nuovo papà tra virgolette è lui che va da lei è lui che la segue è lui che un po' la prende quasi a modello non è lei che gli va dietro e questa cosa mi è piaciuta forse è l'aspetto che salvo del film che altrimenti mi avrebbe fatto più schifo quello assolutamente si è piaciuto anche a me anche se ho trovato abbastanza così dal dal nulla tutta cioè si è sviluppata un po' troppo velocemente questa situazione è un po' una roba che non ho capito anche il fatto che lei dice parlando su un fratello la mamma non ci permetterebbe mai di farlo perché no cioè nel senso discutiamone cioè però secondo me questa roba ha un senso allora facciamo così dimentico tutte le cose che del film mi sono piaciute provo a fare l'avvocato del diavolo contro me stesso mi viene difficile perché volevo rispondere a una roba che ha detto Marghe che secondo me è sensata cioè io normalmente per queste cose qua non è che proprio mi metto a fare la punta al cazzo su tutto se però tu mi sbatti le regole del gioco così forte in faccia me le spalmi finché non mi entrano nelle orecchie come se fosse un piatto di merda e poi quando ti fa comodo te le dimentichi e allora poi io mi incazzo comunque tolto questo la logica è che secondo me era molto bello il primo film perché ti faceva vedere anche il contrasto un po' tra come poteva essere il concetto di diventare giovani adulti in un mondo così in un mondo dove i tuoi genitori non è che ti devono solo dire stai attento ai tossici non prendere caramelle non andare al bolgia non rompere i coglioni la gente sotto casa se vince al mina perché prima o poi al mic vengono fuori con un ufficio che hanno le mozze cioè lì è tutto più complicato e quando i figli cercano un pochettino di emanciparsi come è corretto che sia allora i genitori anche complici della morte terrificante dell'altro figlio cioè comunque ostacolano il loro percorso di crescita naturale quindi a questo punto di vista tenendo presente anche che il padre per tutta una serie di motivi alla fine del primo film prende una strada diversa al resto della famiglia secondo me quella roba lì in realtà ci può stare premettendo anche che dei due figli la figlia sorda è l'unica normodotata perché l'altro figlio è un completo coglione e io sinceramente l'avrei tenuto solo come esca per i mostri li avrei proprio lanciato come un missile umano perché la ragazzina è figa di Cristo cioè è un'attrice della madonna e è proprio smart anche nelle cose che fa il figlio sembra un po' la spalla comica o la quota confusione mentale perché fa tutto quello che non deve fare c'è anche nel primo film c'è queste idee e nel secondo poi c'è queste idee brillanti chiudiamoci qua facciamo tutte le cose che non dovrebbe fare le fa quindi secondo me in quell'ottica lì ci sta poi il fatto che succeda subito che il diciamo che l'amico si affezioni a una ragazzina secondo me dipende anche dal fatto che ti fanno vedere che questo qua ha perso il figlio e non è riuscito a salvarlo poverino quindi magari quella roba lì è anche un tentativo in qualche modo di riavvicinarsi a uno sbaglio che ha fatto lui cioè non lo so della Stovas della Stovas eh sì è un po' quella roba di era della Stovas no però sembra anche molto The Walking Dead come diceva Kicce prima Simone sì con la morte di Rick in poi insomma con la figlia eccetera le dinamiche sono quelle sì decisamente e allora posso dire qualcosa io vai vai allora io non vorrei metterla un po' così sul drammatico però secondo me Quiet Place è un po' l'esempio di quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo artistico dell'intrattenimento come lo vogliamo definire ovvero tu hai un concetto che lo puoi spiegare in una frase meno di una frase che è fighissimo e una realizzazione che è una scusa di quella frase stessa perché alla fine quella frase nel nostro caso di Quiet Place ci sono delle creature che uccidono qualsiasi cosa faccia rumore e questa storia è ambientata in un mondo in cui ci sono sopravvissuti a questa situazione che devono cercare appunto di trovare il modo di sopravvivere è una premessa bellissima è una figata gigantesca a livello registico ti dà un sacco delle possibilità tecniche che infatti vengono sviluppate molto bene a livello sonoro perché il sonoro di questo film di entrambi i film funziona veramente molto bene ed è tutto molto bello per il resto la realizzazione la sceneggiatura del cazzo di cane così mettiamo delle regole ci caghiamo addosso poi le ripuliamo e poi ci caghiamo addosso ancora ed è una costante così e questo è bene o male quello che succede in tutto l'intrattenimento perché nell'intrattenimento parlo di oggi quello che funziona sulla fruizione on demand per intenderci l'idea deve cogliere subito deve essere come il titolo del giornale deve essere una frase che ti piglia la prendi e dici wow che figata la prendi e te la mangi e poi solamente dopo che l'hai mangiata ti rendi conto se era un cioccolatino o se era della merda e secondo me A Quiet Place benché sia fatto veramente da dio da un certo punto di vista perché ha davvero tante cose belle sto film in realtà a me quando l'ho messo in bocca sapeva tanto di merda personalmente ed è un po' quello che a me spiace di quello che è l'intrattenimento di oggi che sia musica che sia film che sia un po' tutto il fatto che ci debba essere appunto questa idea bellissima e poi come viene realizzata fotte sega tanto l'importante è che poi lo fai bene a livello tecnico così i recensori te ne parlano bene e invece no vaffanculo questo film mi ha preso per il culo è un po' come ho visto quando ho visto Lord Kaiway nel Cavaliere Verde è una supercazzola quel film punto non pigliamoci per il culo fatto benissimo bellissimo wow tutto quello che vuoi ma è una supercazzola la stessa cosa è A Quiet Place film bellissimo con un'idea di base fantastica straordinaria un immaginario benissimo che nella prima parte del primo film poi è davvero tutto coerente infatti lui ha detto minchia che figata e poi manda tutto in vacca perché deve perché ti deve mettere anche nel finale lo scontro col mostro col col con la con la con l'arma segreta cioè ma a me non me ne fregava un cazzo di vedere morire il mostro sai che bello era se i mostri fossero stati immortali fino alla fine che bello era se non si sapeva che fine facevano che cioè da dove venivano perché erano lì come cioè invece no alla fine sappiamo come sono fatti qual è il loro punto debole come si spostano su che superfici si sono in grado di spostarsi cioè che palle che palle perché perché dovevi fare alla fine che il mostro veniva ucciso a me non me ne fregava un cazzo ragazzi abbiamo 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 dei mostri con cui contro cui l'aviazione dell'esercito americano non è riuscito a fare un cazzo e gli spacca la testa una bambina con un tubo ma di che cazzo stiamo parlando di che cazzo stiamo parlando è quella roba lì è un continuo metterti le regole che poi non si è in grado di gestire un film così esiste ed è the descent secondo me a quiet place come dicevo già prima è proprio il film della famiglia americana cioè devi devi settarti su quella mentalità lì capito che loro ti devono portare avanti questa famiglia che deve mantenersi così com'è e che ti deve far vedere come si può vivere all'americana in questa situazione è proprio l'approccio che deve essere questo quindi è proprio pensato per essere così forse 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 è proprio quello io forse avrei è troppo americano per i miei gusti e comunque una cosa volevo giusto prendere una roba che hai detto te tu dici the descent quello della grotta sì lo sai una piccola una cosa che ho scoperto recentemente che gli attori che hanno fatto quel film non avevano visto il make up dei mostri fino a che non li hanno messi di fianco beh io mi sarei prendiata addosso ma lo sai che io ho bestemmiato quando ho visto il mostro la prima volta di the descent c'era proprio lì oh porco mamma mia però posso dire una cosa se loro avessero fatto un tentativo di mantenere la famiglia americana in un ambiente ostile un po' come avevamo fatto col primo io ti dico io ho un 2 così l'avrei non mi aspettavo un more the same l'avrei guardato perché poteva essere interessante l'idea cioè tipo io Walking Dead la serie televisiva non l'ho vista però una cosa molto interessante secondo me del fumetto è che c'è un contrasto che inizia a essere sempre più forte tra chi è nato prima dell'apocalisse e chi è nato dopo fondamentalmente perché chi è nato dopo vive in uno status quo che è differente c'è un numero abbastanza interessante carino della serie fumetti dove per dirti c'è tutta una discussione tra Rick e Carl perché Carl è ancora un bambino però dice cazzo cioè qua tutti i giorni con la pistola io voglio la pistola per dirti è una strontata però funziona io non ho capito a il 2 trasformarmelo così tanto in action perché poi i mostri non fanno neanche cioè nel senso anche quando li vedi la cosa bella del primo secondo me è fighissima perché finché tu non li vedi fanno una paura fottuta cioè perché sono un po' l'incarnazione della morte nel 2 disfano pirano saltano sparano raggi laser dal culo e ci sono delle robe che sono secondo me anche fatte un po' in modo cioè anche in modo un po' cioè tutta la scena ci sono delle scene che secondo me sono state fatte un po' a cazzo cioè tipo la scena quella del puntile del 2 non c'entra è proprio una scena che in realtà non ti serve fondamentalmente non ti serve un cazzo se non a crearti una specie di sconotage per il finale però era cioè quella scena lì potrei fare mille modi nel senso potrei arrivare allo stesso risultato con delle cose un pochettino più secondo me più cioè più efficaci anche perché per dire banalmente tutti girano col fucile no cioè io sopravvissuti me li aspetto ma per dire una cazzata me li aspetto che girano con la balestra è una piccola stronzata però tu mi fai cioè non so spiegartelo mi sembra che il film sia per certi aspetti secondo un po' pigro le mie incazzature ho letto le cose che diceva Jack sono giustissime ma poi faccio uno sforzo e ti dico ok è che mi sembra che tutta la parte interessante di dinamiche interne del primo si perda cioè tipo a un certo punto la mamma va e il fratello ha la brillante idea di lasciare lì il fratellino cioè come cazzo ti viene ti hanno rotto i codioni per tutto il film la famiglia stare vicini guardarsi l'uno con l'altro tu pigli e lascia un infante lì a cazzo di cane cioè chiuso nella sua cosa per l'amor di Dio cioè poteva arrivare chiunque ti becchi l'ultimo pedofilo sulla terra e lo lasci lì cioè non lo so nel senso c'ha proprio un po' di robe secondo me che stridono e mi dispiace perché secondo me il primo film fino a quasi metà è proprio interessante nel farti vedere un po' i contrasti tra i giovanini cioè quella roba lì è una figata questo boh non lo so mi ha lasciato molto molto tiepido e poi aggiungo una cosa che ho pensato anch'io un po' con Jack come Jack è che premesso che loro fanno tutta una roba per fermare questi mostri cioè lei tipo a momenti lo decapita con una specie stampellone no e mi dico ok quindi tecnicamente un contadino molto furbo mi avrebbe potuti figa imparare con delle forche cioè nel senso non no no allora c'è un motivo sì no lo so c'è un motivo lo so che c'è tutta quella roba lì del vabbè lo so però 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 io ti dico una roba effettivamente fai una fossa piena di tagliole butti dentro una una bottiglia di vetro e hai fatto un minestrone di quella roba lì cioè cioè è quella lì la roba che dico io non a me è spiaciuto perché il primo film secondo me è veramente buono ma anche il secondo c'ha c'ha delle robe che sono secondo me interessanti solo che le anacqua con un po' di cazzatelle come dice anche Marghe banalmente cioè qua si incontrano dei cazzo di banditi su un pontile tre secondi prima poi arrivi in una in un posto dove non c'è dove vabbè è un po' più tranquillo degli altri ma non voglio fare spoiler è un po' più tranquillo degli altri e figa fanno entrare cani e porci cioè queste arrivi non c'è uno che gli dice oh ma chi cazzo sei che cazzo fai che cazzo vuoi non c'è uno che fa la vedetta non c'è non c'è un cazzo c'è la gente che fa beer pong c'ho serenissimi e ti dico ah bella fra vieni appena smezzato mezzo chilo di pakistano vieni che te lo offro cioè sembra che ci sia un po' del buonismo in nato che è terrificante poi allora dai Simone cazziaci io 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 sul 2 purtroppo l'ho detto io non il 2 proprio in realtà devo essere onesto già in partenza mi è stato abbastanza antipatico perché come ho detto prima la cosa che mi è piaciuta tanto il primo al di là di certe certe questioni proprio tecniche era l'idea secondo me il 2 era un'ottima possibilità un sequel era un'ottima possibilità per riuscire a a raddrizzare il tiro magari sulle cose che che non non si sono venute e una cosa figa di A Quiet Place è che secondo me il protagonista del film non è tanto la famiglia ma quanto quel mondo quella situazione ok e secondo me il 2 era un'ottima idea per far vedere qualcos'altro per far vedere un altro posto un'altra famiglia un'altra situazione altre cose e sarebbe stato bellissimo cioè probabilmente perché magari potevano ripulirlo dalle minchiate ripulirlo dalle loro situazioni invece no c'è sempre quella volontà di voler andare far vedere l'origine far vedere cosa è successo prima e cosa è successo dopo a me non me ne frega un cazzo io non voglio vedere le cose alla beautiful a me non mi interessa vedere la settimana prossima che cosa succederà a Ridge e a Thorne non me ne frega un cazzo a me interessa vedere delle storie interessanti e io personalmente a me è spiaciuto perché con un mondo del genere ci sono delle storie bellissime secondo me che si possono raccontare all'interno di una vicenda di quel mondo quel mondo è è fighissimo cioè l'idea di non poter far rumore ti apre delle possibilità fighissime e invece bisogna sempre raccontare il giorno 1 cosa è successo ma all'altro i protagonisti e i protagonisti cosa è successo al giorno dopo a me non no era andava bene che si chiudeva al finale quello del primo parliamo di altro era un'ottima occasione e quindi mi è stato sul cazzo già dal principio questo film quando mi sono reso conto di quello che era e poi personalmente il cambio di registro più action ci poteva stare non ci poteva stare personalmente troppe troppe cose che non tornavano qua lo stesso problema del primo solamente che nel secondo parte già dal principio a buttare là delle cose che non stanno né in cielo né in terra e che non sono spiegabili esagera il secondo proprio butta tutto in vacca secondo me da quel punto di vista certe cose i mostri che che ti sentono dall'alto che ti piombano dalla che piombano sotto terra c'è il ragazzino chiuso dentro in una cassaforte sotto terra il mostro che ha sentito il rumore fuori però ha capito che il bambino è dentro cioè pieno di cagate del genere la mamma che spara con una pistola il mostro che va dove c'è la bombola cioè il mostro doveva avventarsi sulla pistola prima cosa cioè tutto così in base a quello che serviva funzionava e io quando vedo quelle cose lì come Nick scusatemi piccolo rant sono stato un po' troppo cattivo scusatemi no 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 ma non sei stato cattivo è un'analisi giusta io onestamente queste cose nei film ma in generale non in A Quiet Place a me non non danno particolarmente fastidio vi devo dire forse perché in ogni caso parliamo di un film fantastico in cui già l'incipit è surreale è totalmente inconcepibile quindi già partiamo da un presupposto assurdo per cui tutto quello che ne viene dopo che sia più o meno logico che rispetti più o meno le regole secondo me cioè non considero quello un difetto del film che è il mostro anziché arrivare due metri più avanti si ferma due metri più indietro vicino alla bomba io quello non lo considero un difetto del film è una cosa uno stratagemma una una licenza poetica che poi nella scena funziona ci può stare a me ripeto a me la cosa che proprio oppure tra l'altro devo dire che l'inizio del secondo con il giorno uno ha un senso e non è tanto lo spiegone di far vedere la bella famiglia ma è più che altro presentare il protagonista del secondo capitolo che secondo se no tu ti chiederesti chi cazzo è questo invece te lo fa vedere subito e ti fa vedere che è un amico di famiglia quindi anche quello ha una sua una sua coerenza secondo me quello che non funziona tantissimo invece nel nel secondo è proprio la scelta stilistica cioè il trasformare quello che era un horror claustrofobico con i mostri in una brutta tra l'altro versione di The Walking Dead con questi che camminano nel bosco con i mostri attorno la famigliola che cerca aiuto che cerca altri sopravvissuti che segue i segnali della radio il bambino l'amico l'incontrare gli altri sopravvissuti cattivi cioè proprio la la trama di The Walking Dead che proprio che proprio a me non è piaciuto per niente e poi quel finale ripeto l'idea del finale quello della radio mi è piaciuta tantissimo anche se è un po' credo un omaggio a Tim Burton e al suo Mars Attack perché Mars Attack finisce così però l'ambientazione i sopravvissuti sull'isola loro che arrivano con la barca il mostro che arriva con un'altra barca è Survival of Dead di Romero cioè quindi questo cosa che non so se sono omaggi citazioni o se è proprio una mezza paracolata io pretenderei più sulla paracolata che sull'omaggio perché è veramente consistente e duratura la cosa quindi non è un attimo non è un momento questo è in effetti quello che proprio a me non è non è piaciuto per niente del secondo rispetto al primo guarda da quel punto di vista io ti dico io non ho visto tra l'altro Survival of the Dead quindi mea culpa Survival viene dopo Diary è l'ultimo è l'ultimo di Romero l'ultimo film nemmeno io però ti dico io ho giocato a The Last of Us e anche quello tutti cioè ma perché sono i classici cliché dell'Apocalisse Zombie purtroppo in questo film purtroppo che partiva da una premessa tutta sua originale e unica invece si è sfociato nell'Apocalisse Zombie nel mondo post-apocalittico da mostri ed è ed è un peccato perché in realtà però perché questi mostri non erano non erano zombie erano una roba molto particolare e quindi poteva portare situazioni secondo me un pochino fuori da quello che era appunto l'esperienza comune di tutti i vari film e videogiochi che ne hanno parlato e riparlato mille volte a me mi viene in mente la ragazza che viene rapita cioè che c'è la scena del molo per intenderci in The Last of Us è praticamente la scena del primo dove dove ci sono dove c'è il gruppo che vuole prendere Ellie e c'è è proprio classico e quindi come dicevi te da quel punto di vista è un po' di sicuro non ha lo stesso mordente del primo quello sì sì sicuramente sicuramente rispetto al primo perde perde parecchio perde parecchio da questo punto di vista ma soprattutto dico in originalità il primo ha molte cose che sono originali e che funzionano soprattutto perché sono rinchiusi in quattro mura loro sono nel loro fortino hanno le loro difese i loro stratagemmi che carpiscono per caso quale può essere il punto debole di questi mostri però è tutto racchiuso all'interno di un unico ambiente il secondo prende una strada insomma secondo me un po' troppo ambiziosa per il tipo di film e là hai ragione tu Jack si cominciano a vedere più cazzate perché ovviamente in un ambiente ristretto è più gestibile la cosa in un ambiente in un viaggio di due giorni insomma diventa un po' più complicato rimanere coerenti con quelle che sono le regole del gioco perché là anche pestando un rametto col piede fai rumore quindi è sicuramente più più complicato e quindi funziona funziona certamente certamente meno ora sicuramente non so se già in lavorazione ma sicuro faranno almeno un terzo se non sbaglio è già già stato confermato ci sarà il terzo e sì perché le batterie dell'apparecchio acustico prima o poi si finiranno si sauriranno quindi ci sarà un seguito quindi vedremo cioè io purtroppo la mia speranza di vedere altre storie altre situazioni altre possibilità o anche semplicemente gente gente furba purtroppo non sarà realizzata come possibilità però io onestamente non ne sento tantissimo il bisogno di vedere il terzo devo essere onesto ma io sarei curioso se provassero una strada cioè perché il contesto in sé a me è in trippa cioè lo trovo una roba interessante e la trovo una cosa comunque che è fuori dalle cose che normalmente noi vediamo per cui io ti dico ma sinceramente mi potrebbe anche anche intrippare come cosa bisogna vedere sempre un po' come cazzo se la vogliono giocare nel senso che visto che pare che poi questi mostri invincibili abbiano dei insomma dei dei buchi mettiamola così per cui possono essere gestiti poteva essere essere figo potrebbe essere figo vedere dove loro vogliono andare con la storia se mi facessero un film come questo ti dico onestamente no sicuramente porteranno avanti la storia della famiglia almeno con la ragazzina cioè non la lasceranno quella andrà molto di più nel mood The Walking Dead secondo me però sempre con loro anche perché io non sono un esperto quindi se sbaglio correggetemi voi che siete sicuramente più esperti di me ma nel secondo a proprio prende un taglio da serie tv come 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 tipo di narrazione quindi secondo me ci può stare che continui la la storia della famigliola io penso che appunto l'idea è come tutti i vari prodotti in serie che stanno uscendo in questo periodo se voglia fare una roba in serie alla Marvel movie ovvero un film che se tu ti sei perso il primo non puoi andare avanti a vederti l'altro e se te ne sei visto uno puoi andare a vedere come finisce e guardarti il successivo che è una roba che personalmente non apprezzo particolarmente nei film e soprattutto quando da un'ambientazione così in realtà come ho già detto prima si potrebbero trovare delle storie ancora più interessanti senza legarsi esclusivamente a quei personaggi ma anche semplicemente dire un chissà cosa succederà vent'anni dopo cioè la minaccia viene ricacciata grazie a questa scoperta e vent'anni dopo succede salcazzo diventano immuni a questa roba qua e vediamo che cazzo succede però purtroppo sono d'accordo con con Margherita cioè non è una roba che succederà se andrà avanti con la famiglia perché di fatto è un horror per quello un horror per la famiglia americana e da questo punto di vista la riassunta effettivamente bene il target è quello quindi purtroppo non ci si può non possiamo aspettarci molto di più da quel punto di vista io posso dire invece una roba che mi è piaciuta un casino del 2 alcuni montaggi tipo la prima scena il montaggio mi è aggasato un casino cioè il fatto che prima vedi un punto di vista che si mescola con l'altro punto di vista cazzo guarda che a me è piaciuto quella roba lì ma sì il montaggio penso sia uno degli aspetti migliori del film insieme al sonoro anche quando c'è il punto di vista della ragazzina che è tutto completamente muto è bellissimo poi c'è anche una scena in particolare in cui la madre sta andando alla tomba insomma simbolica del figlio del marito e poi ti fa vedere contemporaneamente la figlia che sta con il nuovo papà chiamiamolo così e c'è proprio lei lascia la fede là sopra mentre la figlia sta stringendo il rapporto con l'altro cioè lui dice noi ti vogliamo dire questo e te lo diciamo bene ed è montato bene cioè non ha paura di mescolare i punti di vista e lo fa anche bene questo a me è personalmente piaciuto anche il finale al di là del fatto che il cervello spappolato col tubo mi ha lasciato abbastanza perplesso però il come viene mostrata l'ultima scena ci stava ci stava e poi dai è carina è veramente carina il fatto che lei pur essendo a chilometri di distanza riesce a salvare la sua famiglia con lo stesso stratagemma quindi quella cosa a me è piaciuta perché è fortuna che aveva la radio accesa il fratello ma quello come diceva come diceva ci ha messo un po' però poi l'ha capito dai gli aveva detto di tenere acceso la radio meno male sì però anche lì la cosa che mi ha stupito di più è cazzo cioè tu trovi un posto sicuro c'è la tua famiglia l'amore di qua di là e cazzo non sono i primi che chiami cioè non trovi non cerchi di andare a riprenderli cioè l'altra cosa che mi ha stupito un po' di questo film è quanto sia stretto l'arco geografico no perché questi pigliano vanno disfano però poi in qualche modo si rincrociano io dico arrivi lì vedi che questo posto c'è meno cazzi degli altri la prima roba che fai non è cerchi di tornare indietro e avvisi i tuoi cioè nel senso anche con la roba lì mi è nascita un po' perplessa perché sembra che poi lei dica ok vabbè ha detto fa sta roba poi la mia famiglia con calma se si salvano ci penso cioè capisco il bene dei tanti sopra il singolo però vabbè ma diciamo che il tempo era poco per cui sono arrivati di sera e l'attacco dei mostri l'indomani mattina quindi non è che sono stati là un mese no no però cioè una volta c'è proprio un po' un po' di buchi per dirti a me la scena come dici tu la scena finale a me è piaciuta anche in realtà ci sono delle cose che ho trovato un po' surreali però il parallelismo la costruzione eccetera figata vedo che questo film ci ha colpito profondamente tutti nel bene e nel male io devo essere onesto personalmente non ho intenzione di riguardarlo e mi sono divertito soprattutto col secondo solamente perché ho potuto prendere nota delle vaccate che avvenivano a schermo e sono divertito ho fatto proprio una bella lista interessante però indubbiamente è un film diretto bene prodotto bene poteva essere scritto meglio di sicuro però non è un brutto film a tutto tondo ecco ci sono dei film che io considero brutti in assoluto questo è un film che personalmente ha toccato dei nervi scoperti che a me non piacciono tipo appunto ribadisco quando lo ripeto continuo a ripetere sono vecchio continuo a ripetere le stesse cose sono come una pentola di fagioli quando uno ti fa delle regole e poi continua a disilluderli ti fa delle regole specifiche e continua a disilluderli a me non fina molto fastidio a me a me capita a volte in certi anime che ti fanno delle premesse molto chiare molto cristalline molto precise e poi se la giocano come vogliono perché deve sopravvivere un personaggio e al posto dell'altro cioè è rimasta sul culo quando uno si gioca carte che non hanno alcun senso solamente perché deve far tornare la storia come vuole lui mi dà fastidio e questo film secondo me lo fa spesso siamo rimasti senza parole quello che bisognava dire l'abbiamo detto non è che abbia chissà che profondità da parlarne per ore è un film per famiglie americane per cui a tutte le famiglie americane che ci ascoltano e sono tante lo sappiamo andate a vedere A Quiet Place we go and see A Quiet Place yeah make america make america great again so a tutti i repubblicani che ci ascoltano andate a vedere A Quiet Place che sospiroi direi che abbiamo conclusa qua più che altro la grande novità di stasera è sapere che Jack conosce i nomi dei personaggi di Beautiful mia madre mia madre lo guardava e quindi ancora ogni tanto io mi sveglio mi sveglio di notte sudato e mi sveglio ancora gli incubi oddio che poi è una cosa divertentissima di Beautiful che io la trovavo davvero veramente esilarante era la velocità di crescita dei bambini cioè io quella roba io diventavo matta la bellissima cioè dovevo farci un film horror al riguardo l'ha fatto a proposito di sta cosa ho visto da poco l'ultimo di Shyamalan Old Shyamalan sì Shyamalan Old e là ci sono i bambini che crescono in fretta sì in una settimana diventano ventenni un neonato ma Old secondo me è carino ho tolto il più buone finale sul ti faccio vedere come faccio una cosa cattiva ma potrei fare il male ma te lo faccio in metà così sembra la zona grigia ma sono cattivo sono buono ha il dilemma morale non era un brutto film no no non è brutto se togli tre finali c'ha tre finali quel film esatto quando sono arrivato al ah dilemma morale ho detto ma vaffanculo poteva chiuderlo anche come diceva Jack a volte l'ignoranza è una benedizione cioè fare una roba ignorante lasciamela lì avrei detto vincita che figata mi sarei pisciato sotto vabbè ma lui non ha mai fatto così ignorante eh ma anche con meno spiegone non sarebbe male direi che possiamo chiudere comunque ragazzi allora io quello che devo dire l'ho detto io volevo lanciare appunto un appello a per favore fate film eh magari più coerenti ma quello vabbè ci si può lavorare ma soprattutto a tutti gli americani che ci ascoltano siete tanti lo so ve l'ho detto prima per favore non sentitevi in obbligo di spiegarci sempre tutto che bello sarebbe stato avere dei mostri di cui non si capiva un cazzo e di cui non si sapeva nulla aspetta posso fare una cittazione dotta quando nel film li ho visti arrivare dall'alto ho detto ma vaffan i comacose dicono che schifo avere vent'anni per quanto è bello avere paura ecco me l'avessi lasciata così avrei detto anche perché poi cioè è vero quello che diceva Simone dell'inizio eccetera eccetera però la cosa che io ho proprio trovato cioè il primo film era veramente turbante anche perché c'era la contraposizione tra la famiglia e tutto quello di minaccioso che c'era fuori che era cioè che era figo che la famiglia diventava quasi il circolo sacro nel bene e nel male con questa roba del padre ti aspettavi non dico che mi aspettavo l'incesto da un momento all'altro però si poteva creare veramente mi stanno guardando tutti e due male nel senso perché ti dava anche l'idea che forse in qualche modo fossero sopravvissuti quasi solo loro per come era più o meno inclusiva la cosa e tu iniziai a dire cazzo ma quindi cioè cos'è la nuova famiglia di Adavoleva eccetera eccetera poi arrivi qua che invece scopri che stavano andare a Rimini fondamentalmente ma stavano andare a Rimini e avevano svoltato stavano andare in Sardegna stavano andare in Sardegna e si stava da dio Simone ci vuole mandare a fanculo ma no 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 allora io capisco capisco perfettamente il vostro punto di vista ripeto queste cose almeno dal mio punto di vista personale non non le considero mai cose negative nel film quindi sì anch'io sono dalla parte di Simone però però troppo The Walking Dead sì quello sì è quello è proprio un difetto quello è un grossissimo anche il ragazzino con la pistola dai il ragazzino con il revolver che spara al mosso dai è proprio ma che poi apro chiudo una parentesi questi qua sono figati tutti in teoria vengono da famiglie normali e sparano tutti che sembrano Billy the Kid proprio perché vengono da famiglie normali ogni buona famiglia normale americana ha le proprie armi e tutti quanti la domenica in allegria mentre il papà prepara il barbecue sparano va bene alle bottiglie vi ricordo che ho dei colleghi texani vi ricordo questa cosa non so se vi ma sono colleghi texani che vivono in Italia no no allora faccio questa diventiamola così quando sono nato in Texas per lavoro ho scoperto che c'è un fondo di verità su quello che si dice su Texas e mi piace resumerlo con questo aneddoto meraviglioso questo collega mi fa ah ok ma allora domani cosa volete fare volete andare a visitare la città quindi con tutta la parte storica tutti i musei eccetera eccetera o venite al poligono e tanto noi però qua tra l'altro un poligono particolare perché le leggi che ci sono in Texas sono diverse dal resto degli Stati Uniti quindi potete sparare anche con le armi d'assalto abbiamo gli A22 e io siccome lavoravo anche relativamente da poco dico guarda non posso parlare proprio a nome di tutti i miei colleghi però credo che opteremo sai per per la visita in città alla fine non siamo mai venuti qua è tutto interessante cerco di mantenere un tono diplomatico questo mi guarda e mi fa mi dimentico sempre che voi europei siete una massa di fighette voglio farti questa domanda dopodiché vado al mall a prendere dei regali e c'era gente di 16 anni che girava con il magnum con la magnum per la sicurezza no cioè le guardie del mall erano ragazzini di 16 anni con i brufoli e una pistola così in bella vista anche perché negli Stati Uniti soprattutto in Texas tu non hai solo il diritto di portodarmi ma è quello che piace un sacco a loro che ha il diritto di esposizione quindi vuol dire che tu ti trovavi ogni tanto la gente che arrivava non solo armata ma che aveva tipo la fondina fuori dai vestiti quindi c'erano dei posti frequentati da persone un po' particolari e anche qua potremmo aprire un dialogo su le cose meravigliose che mi sono state dette da italiano non tanto dai colleghi ma diciamo che ho visitato una parte del Texas dove c'erano persone abbastanza ruspanti chiamola così quindi ho scoperto che sono bianco ma non abbastanza bianco per certi standard e quindi tu ti trovavi la gente che magari arrivava anche tranquillamente in abito però c'era la pistola fuori proprio serenissimo che ti diceva no perché sai io la porto in giro perché cioè comunque senza mi sento un po' nudo io pensavo a noi europei dicevo micchia cioè da noi è vero che abbiamo un po' di problemi all'altra parte però se penso a me Nicola a 16 anni con una magnum dico che cosa mai potrà andare storto cioè spararmi nei coglioni sarebbe stata forse la cosa più intelligente che potevo fare nel senso nella pletora di cose che mi vengono in mente da fare sbagliate che poi cioè una cosa assurda è che poi loro sono fatti così però è strano che non succedano mai stragi da loro cioè che nelle scuole è tutto liscio cioè io non riesco a capire come siamo in grado di fare mai uno che sbrocca mai uno che impazzisce e si asparra la gente vuoi sapere che cosa mi ha risposto una barista riguardo questo argomento perché mi aveva visto un po' sconvolto dal fatto che c'era gente che ha sparato nel ginocchio no oltre a ricordarmi anche lei il fatto che noi europei siamo una massa di fighette e poi c'è questa cosa meravigliosa in cui insomma sono convinti che tipo in Europa non sia nulla illegale no cioè quindi loro ogni tanto ti dicono ma che cazzo vedete voi che in Europa si gira nudi e io dico scusami no no ma in Europa lo sanno tutti che c'è questa cosa degli Stati Uniti per cui tipo noi europei non facciamo altro che scopare e bere vino e se siamo italiani a mangiare la pasta a mangiare la pasta mentre giochiamo a calcio scopriamo cioè c'è sta roba che non si capisce no che bello che bel mondo e comunque io voglio un'Europa così sarebbe migliore quella che abbiamo adesso per tanti motivi comunque la marista mi fa no perché io capisco che poi voi arrivate e non siete abituati però ti dico la soluzione sarebbe facile cioè se tutti fossero armati non ci sarebbero stragi perché quando uno punta la pistola sopra un altro gli sparano e io mi sono immaginato un effetto domino che funzionerebbe molto meglio che Quiet Place perché se tu ci pensi vorrebbe il meme quello della tipa che cerca di connettere i punti oh ti giuro cioè e lei mi aveva fatto il discorso del tizio che aveva sparato dentro il cinema la prima di Batman una roba del genere no? non so se ve lo ricordate e lei mi fa per forza gli altri erano disarmati e io gli faccio ok ma questo era al buio ha sparato quindi è molto probabile che anche le altre persone sarebbero spaventate e avrebbero magari a loro volta sparato quindi generavi un circolo che non riuscivi a chiudere e lei mi fa no vabbè ma poi con i bravi la pistola mettono via quindi cioè c'è tutta una roba che non lo so ragazzi non lo so ho sentimenti contrastanti con gli Stati Uniti e ci sono come abbiamo come abbiamo sentimenti contrastanti con A Quiet Place a quanto pare che se da un certo punto di vista gli possiamo voler bene da altri punti di vista non si può negare che soprattutto il secondo delle delle minchiate se ce l'abbia è anche abbastanza grandi posso dire però che volevo salvare due cose del film che mi sono piaciute molto che sono la recitazione perché secondo me comunque c'ha c'ha veramente gli attori della Madonna e la e però non voglio rientrare nel loop però per dirti una cosa che mi ha fatto incazzare ancora di più di Cristo è per dirti la naturalezza con cui la la ragazza sorda quando parla con il nuovo papà mettiamola così perché sono per dire stepdad ma poi anche lì si aprono delle cose che non mi devono aprire però tipo quando lui sta parlando e non la sta guardando e c'è lei che con molta delicatezza gli gira la faccia gli fa ti ricordi devi enunciare e poi dopo quattro secondi lei capisce cosa dice lui che è girata a guardare ma questa è un'altra cosa cioè lei secondo me fa parte della Madonna e e l'audio secondo me questo film continua ancora adesso ad avere delle scene audio che sono delle cioè di modi di gestire l'audio che sono pazzeschi cioè è fatto veramente soprattutto il primo come diceva Marghe gioca benissimo secondo me sul fatto di avere un film molto poco rumoroso che quando poi tolgono quel poco di rumore che c'è paradossalmente è ancora più estraneante e tipo quindi cioè sei lì che comunque ti fa un effetto strano ecco e poi vabbè c'è GDD Office io quell'uomo lì mi unirei carnalmente a lui è troppo adorabile è fantastico è fantastico è tipo è l'alfa dell'omega di altre persone con cui con cui interagiamo quotidianamente lui è troppo è troppo adorabile ma io vorrei dire una cosa tra l'altro lo sai che c'è anche in a piccola parentesi c'è anche in Dottor Strange fa Mr. Fantastic però la fiera con l'alternativo c'è un rapporto conflittuale con i film della Marvel cioè prima di dire che mi fanno schifo sto provando a vederli però sono arrivato al primo Dottor Strange e mi sono impantanato e io ti dico l'ultimo ne abbiamo parlato a me personalmente non è dispiaciuto poi ovviamente è quel genere lì cioè a me è piaciuto è una bomba però chiudiamo A Quiet Place una parentesi alla volta allora direi che per me la tagline è A Quiet Place come dire potrei dire A Quiet Place e non è non è tagline è più una descrizione mia mi fa provare le stesse sensazioni di una famiglia di di una famiglia americana e quindi ti c'è un po' tutto cioè con le sue contraddizioni con i suoi spiegoni con le sue armi da fuoco e tutto il resto che non sai se devi volergli bene o se devi mandarli a fanculo è questo questo è A Quiet Place ma secondo me guarda che anche nel titolo stesso c'è un po' questo gioco perché in effetti A Quiet Place non è solo un posto silenzioso ma è anche un posto dove c'è tranquillità e serenità che potrebbe essere la famiglia americana sì sì dai se il sottotitolo italiano è un posto tranquillo possiamo metterci un posto americano esatto forse sempre meglio esatto un tranquillo posto americano A Quiet Place è il burro da rachidi A Quiet Place 3 sembra che esca nel 2000 allora sembra che nel 2025 esca A Quiet Place 3 ed uscirà uno spin off non so su cosa nel 2023 pare l'uomo cominciano con gli spin off i prequel io potrei essere più interessato allo spin off paradossalmente perché se lo spin off si distacca dalla famiglia dalla sacra famiglia e magari racconta un'altra storia potrebbe essere quello che sto cercando ok io ho pensato alla mia tagline vai che The Resident Place Walking Quiet 3 perché 3 perché 2 tu la Nick la devi smettere con le droghe pesanti ma 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 reso bene in effetti l'idea resident walking quiet ci sta non ditemi non ditemi che i film con la Jokovic cioè di Resident Evil sono poi così tanto diversissimi da queste scene azione qua insomma dai anche se devo dire devo dire che i mostri un po' lo ricordano i mostri di Resident Evil quando io ho visto la mamma che sparava ho detto figa se avessero fatto il bullet time e la mamma che si piegava un po' all'indietro è una matrix barra Resident Evil basta allora buttalo sul trash quando non sai cosa cazzo fare svacca svacca la grande fammi vedere fammi vedere la mamma che diventa aliena ma che cazzo mi fai uscire i tentacoli vai così fai vedere il bambino che diventa tra l'altro altra domanda ma sto bambino piccolo quanto cazzo nascerà quanto cazzo nascerà con dei problemi poverino che continuano a chiuderlo a tutte le parti in una barra in effetti l'infanzia è chiusa in una barra insomma non è è quiet place stress alla sto bambino che fa un bucio di culo così e il resto della famiglia oppure diventa un vampiro chissà esatto va bene dai avete la vostra tagline oppure io ce l'ho vai spara Simo è però la mia è sottile di quelle che devi capire cioè di quelle che ci stai a pensare 30-40 secondi nel caso di Nick forse un po' di più per cui devi pensare di più alla tua tagline che al film stesso in effetti esatto bravo il senso perché è criptica a quiet place non mangiate fagioli eh beh tu sei un po' troppo italiano però secondo me rispetto i fagioli sono proprio il simbolo dell'America rispetto per i fagioli comunque massimo rispetto ma infatti hanno tutti il tappo nel culo cioè per quello che sono morti perché la gente asfizziati la gente poi i tappi partivano e c'erano i morti così in mezzo alle strade secondo te perché finiva l'ossigeno la camera con la stagna natale in a quiet place pii pa 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 ma mamma mia ma è presente se ci fosse stato a un certo punto Massimo Boldi che ti muore quando vede la ragazzina che va via con lo stepdad e si guarda si gira verso la moglie per la ciula per la ciula e arriva nei mossi e l'ammazzo fantastico best che dolore mentre lo fanno a pezzi con quello che faceva il finto bombolo che non mi ricordo come cazzo si chiama quello lì che imitava bombolo che fa perché lo deve fare a voce bassa però come sa sempre fantastico proporrei la versione italiana ragazzi dai tagline Margherita non ci deludere io no l'ho detto già prima per me posto tranquillo americano e basta posto tranquillo americano proprio facile che sai cosa sembrano sembrano le quando facevano le traduzioni per fare tipo i film i film diciamo soft core che prendevano quelle robe che non volevano dire loro prendevano i titoli di quelli italiani di quelli americani che trasformavano in italiani ci mettevano quelli che davano tipo su Odeon quelli con Mickey Rourg la sera tardi che ti mettevano tornado di passione 57 vedi vedi generazioni di segaioli tutti qua che emergono come i funghi a parte Margher poverina che ha fatto un errore cioè dire una cosa intelligente tra minchioni scusami sempre però vabbè c'è da dire c'è da dire che l'ho evocata per dire una roba intelligente grazie a Dio ho un'altra ho un'altra domanda seria che però non mi cioè che è questa e sono serio come hai fatto a fare un figlio se non puoi fare l'umore a parte il parto allora con delicadezza no 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 tu dovresti sapere che le famiglie americane fanno sesso solamente per riproduzione alle missionarie senza guardarsi negli occhi in silenzio al buio però scusami il figlio l'hanno fatto prima dell'arrivo dei mostri era in cittadini no 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 400 giorni dopo eh 400 giorni dopo per cui cioè io mi immagino come vai? cioè è terribile no secondo me la tecnica no vabbè io c'ho un'idea ma ve la spiego forse fuori decidete o sbacchiamo fino in fondo o me la tengo per i fuori onda posso sbaccare Margaret perché io c'ho una teoria secondo me ha usato la tecnica del biscotto quando ti cade nel tè cioè avvenuta la cosa lui è rimasto completamente ferma lei è rimasta completamente ferma e poi hanno aspettato che per qualche motivo ci fosse tipo tempo quindi c'è una scopata che è durata otto ore micron per micron perché se no non si spiega cioè oppure hanno scopato sotto la cascata però mi verrebbe anche a dire già che hai fatto la preparazione sfornalo lì sfornalo lì esatto però è migliore cioè tra l'altro avevano pure tre figli che li giravamo intorno cioè poi non si sa se l'altro è già andato non si sa però dico due barra tre figli avevano che li giravano intorno e vabbè ma qua c'ha ragione Marghe cioè se può fare il figlio lei lo possiamo fare tutte io guarda spero che nel momento in cui tu queste donnacce di oggi che non vogliono fare i figli se tu se tu decida di fare di fare un figlio se tu un giorno deciderai di fare un figlio perché io sono cioè tipo cazzi tuoi perché è giusto così a meno che diciamo anzi no ci sono anche delle imprenditrici che ti direbbero no chiudila che non ti serve però mi piacerebbe immaginare un'ostetrica che di fronte al dolore ti fa eh ma se ce l'ha fatta quella di Quiet Place signora ce la deve fare anche lei ma l'ha visto di Quiet Place dai 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 poche storie dai adesso tutte le volte che la tua dolce metà anche solo si fa male quando fa sport che ti torna con un livido con qualsiasi cosa perché mi avevi accennato che era super sportivo lui se non mi ricordo male magari ho l'Alzheimer però tipo ti torno tutto scassato e fai sì però vai con la mano di Quiet Place hai settato su tutto ah e poi un'altra cosa però chiudo qua giuro veramente ma sti cazzo di persone poi tra l'altro si fanno male solo ai piedi cioè non so se ci avete fatto caso ma quando ci sono delle ferite di gente che urla non è mai che non lo so figa danno una gomitata a uno spigolo accavallano le gambe troppo forte e si chiudono i coglioni no tutti quei piedi qualsiasi cosa succeda su tutti quei piedi è la taglione è il clodo vorrei dire una roba tipo 1,2,3,4,5,6,7,8 al nono punto io mi sono segnato a riguardo ai piedi di Quiet Place 2 giusto perché non hai fatto tranne in mente tutti vanno in giro a piedi nudi tranne il loro amico che va in giro con gli scarponcino e non gliene frega un cazzo perché lui può cioè ragazzi è vero vero non ha alcun senso che poi pensavo un'altra cosa se tu hai dei piercing un po' strani in posti strani no cioè è un bordello in teoria perché tu cammini e cioè non lo so il piercing è il capezzolo è un figa un disastro perché poi si sente il rumore quindi torniamo nel mondo di Marghe si salvano solo i credenti quelli veri che hanno il crocifisso in legno rigorosamente in legno che non scopano che vanno in giro oppure oppure che fanno come loro che non sappiamo esattamente però che vanno ricordati tecnica del biscotto inglese poi si sono guardati hanno detto ci abbiamo messo otto ore ma è stato uscizionale va bene bambini adesso potete tornare a dormire perché tutto era nato dal bambino che gli ha chiesto ma come nascono i bambini e loro otto ore se si guardavano l'infomaniac di Lars von Trier ci mettevano di meno ma va bene dai dai scusate scusate ragazzi ho svaccato io ho svaccato io perdonatemi mai più allora ragazzi carcasse putrescenti è stato bellissimo stare con voi questa sera un grande saluto da Nick ciao vi saluto un po' MRSM perché ci sono i mostri un saluto a portatore di luce buonanotte a tutti un saluto a Margherita da Margherita buonanotte e anche un saluto da parte mia grazie di essere stati con noi di averci sopportati nelle nostre baccate anche quando mandavamo volutamente in svacco tutto quanto chissà cosa ne pensate voi di A Quiet Place se l'avete visto fateci sapere se non l'avete visto decidete voi di se guardarlo o no in base a quello che vi può piacere o no è quello che avete sentito questa sera e se lo recuperate e pensate che siamo degli stronzi fatecelo sapere se invece pensate che abbiamo ragione fatecelo sapere lo stesso comunque alla prossima Carcasse Putrescenti e alla settimana prossima anche se martedì ci sarà un appuntamento speciale con il nostro Simone qua sotto e il Coligliastro un'intervista specialissima e per il resto rimanete sintonizzate su Instagram Telegram Facebook ovunque dove cercate Carcassa Horror Podcast e ci trovate alla prossima Carcasse Putrescenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti